La prima volta che senti parlare da Youb mi aveva colpito la storia bizzarra di un nord africano sulla neve con le slitte. Mi faceva tornare in mente il film Cool Runnings della Walt Disney. Ho cominciato per questo a raccontarla. Non è una storia la Disney, mi ripeto, mentre le riprese continuano. Adesso faccio dei lavori con la neve, anche se non ho mai visto la neve. Io non ho l'idea di destrare i cani e poi venderli. In Marocco vivevo vicino a Maracas, a 30 km. Un cane veramente è meglio di un uomo. Nel futuro continuerò a destrare i cani. Fino a quando avrà compiuto 18 anni, Youb potrà rimanere in questa comunità. Saprà accettare le sfide, le vittorie, le sconfitte. Ciur bollare Puolia Grazie a tutti.